buongiorno questo video in diretta di oggi 22 lunedì 22 luglio quali sono notizie della giornata beh ovviamente la notizia ancora che fa capolino su tutti quanti i giornali è la fiat e marchion continuiamo a chiamare fiat un'azienda che adesso si chiama fca e che non è più appunto molto lontana parente di quella fiat torinese dell'ingotto di cui noi che abbiamo iniziato a scrivere di fiat oggi continuiamo con una specie di riflesso pavloviano a chiamarla come non si chiama allora che cosa succede sul su marchion intanto i titoli del giornale partire dal corriere della sera sono prova mercato il mercato è appena partito sono le dieci e mezza e i titoli della galassia fiat cnh fiat insomma tutte la galassia fiat stanno crollando in borsa anche se gli analisti oggi sui giornali dicevano si sarebbe avrebbero dovuto già scontare l'uscita di marchion perché era prevista la sua uscita nel 2019 e se ne sarebbe comunque andato con l'approvazione del bilancio del 2018 come sapete il bilancio di ogni anno si approva l'anno dopo tra maggio giugno e luglio dunque era attesa dai mercati anche se i mercati forse avrebbero sperato che marchion rimanesse ancora un po in sella boccia oggi intervistato dal corriere della sera mi sembra da dario di vico più ridicolo del solito ruppe con noi aveva ragione beh insomma e quando marchionnes andò via della confindustria boccia era vicepresidente di quella confindustria orribile di emma marcegaglia quella confindustria che iniziò il declino la fine dell'associazione degli imprenditori in cui di fatto comandavano più enel eni cioè le grandi aziende pubbliche di quanto contassero le aziende private e adesso oggi piagnucola boccia ruppe con noi ma aveva ragione ma che aveva ragione aveva straragione perché quella confindustria di ieri e di oggi rappresenta assolutamente nessuno e anche quando dice delle cose ragionevoli come sul decreto dignità ovviamente non le chiede più nessuno per la per cui per la sua credibilità è pari a purtroppo zero ma la notizia del giorno in realtà su marchionne no caro non sono stato da barbiere c'è ancora i capelli bagnati perché mi sono fatto una doccia molto presto non molto presto mi sono svegliato molto presto ho fatto la doccia e ora per svegliarmi ancora un po di più allora che cosa è la notizia del giorno l'intervista ha alla lettera di franzo grande stevens che insieme a gabetti gestirono la morte purtroppo di umberto agnelli e prima di lui dell'avvocato agnelli cioè sono i due custodi i due tesorieri delle volontà della famiglia agnelli che è stata costellata di grandissime tragedie dalla morte di giovannino cioè il figlio di umberto alla morte dell'avvocato agnelli che non aveva mai guidato l'azienda ma sul suo sommato nera il suo leader spirituale alla morte di umberto agnelli quando muore il fratello si sarebbe atteso invece la gestione di umberto e alla segnalazione ricorda franzo grande stevens di marchionne da parte di umberto agnelli che sul letto di morte dice prendete questo manager di sgs perché è riuscito con delle trovate straordinarie a rivoluzionare questa società della logistica e della sicurezza svizzera ma la notizia la notizia di oggi di franzo grande stevens è che l'unico in tutto il panorama dei giornali compreso il giornale di famiglia alla stampa che dice parla esplicitamente della malattia di marchionne inutile che ci giriamo intorno è la cosa che tutti si chiedono come sia possibile che marchionne muoia purtroppo in fin di vita in tempi così ravvicinati l'abbiamo visto a fine giugno all'inaugurazione alla presentazione di una gip per i carabinieri insomma tutti da un punto di vista giornalistico squallolo diciamo in maniera squallida in maniera sciacallesca eccetera se lo chiedono e oggi franzo grande stevens dice esplicitamente i suoi polmoni erano stati aggrediti sostanzialmente i suoi polmoni sono la causa del suo male incapace di sottrarsi al fumo delle sigarette e questo è quello che scrive franzo grande stevens evidentemente facendo capire che la malattia come qualcuno dice è un tumore ai polmoni anche se la sua velocità è del tutto inaspettata cnh ferrari fca lo vedete su tutti i giornali perché che cosa succede oggi sugli altri comparti del mondo agnelli forse nessuno oggi ha notato e ha messo insieme i puntini perché siamo tutti ovviamente colpiti dalla morte annunciata anche se non è ancora avvenuta e tutti quanti pregano per questo uomo che sta lì come ha detto il canne l'unica cosa che possiamo fare insomma non puoi dare una notizia se non è la certezza di fatti non abbiamo la certezza io ho letto franzo grande stevens che ha detto che lui pensa che i polmoni siano stati aggrediti anzi lo dà come dato di fatto e comunque la notizia che invece si può dare è che cnh cioè il case new holland i trattori le macchine agricole la ferrari che tutti sapete non ho bisogno di spiegarvelo e fca cioè le auto sono tutte guidate da nuovi manager non italiani è una piccola condizione di una grande multinazionale che non è riuscito a trovare un italiano per guidare queste tre grandi aziende del made in italy soprattutto la ferrari mi verrebbe da dire non c'è un italiano è molto interessante l'intervista al ministro del tesoro ex ministro del tesoro americano larry summers un grandissimo pensatore economico ma quello che convince obama a vendere la chrysler alla fiat beh insomma interessante il suo punto di vista perché disse grazie a marchionne lo vede dal punto di vista gli americani non abbiamo fatto fallire la chrysler secondo me è la chrysler che si è comprato la fiat alla fine ma la cosa fondamentale è che non l'abbiamo fatta fallire la chrysler e se fosse fallita la chrysler dice larry summer ci sarebbero stati degli effetti catastrofici su detroit nel 2009 e non solo insomma ognuno ha le sue infelicità noi abbiamo la fiat e loro avevano la chrysler messi insieme due debolezze evidentemente grazie a marchionne non più tanto deboli sono diventate molti criticano i critici di marchionne e il gelo con il movimento 5 stelle titola libero e anche col governatore della toscana rossi che non è stato affatto gentile con lui bertinotti scrive mi sembra su repubblica io ce l'ho non con l'uomo ma con il ruolo perché un altro di quelli che ce l'ha con marchionne devo dire la verità che tutti oggi che parlano bene di marchionne sono molto sempre sono sempre gli stessi che oggi stanno per esempio incenziando il decreto dignità non so come dirvi marchionne è l'esempio tant'è che molti operai e molti sindicalisti ce l'hanno con lui della di un metodo di lavoro non all'interno della confindustria fuori dai contratti collettivi diciamo nazionali che probabilmente tutti quelli che amano il decreto dignità dovrebbero aburrire cosa succede nella politica nella politica è molto semplice quello che succede oggi quello che succede è l'intervista no non è morto alvaro alvara non è morto è vivo ma è in condizioni irreversibili come purtroppo oggi hanno detto un po tutti i sondaggi li fanno oggi lo fa oggi il corriere della sera cosa succede sui sondaggi sulla politica beh il dato sostanziale che il movimento 5 stelle non perde quello che molti pensavano avesse perso governando in maniera un po incillare rispetto alla lega sta al 31,5 per cento quindi ancora fortissimo il movimento 5 stelle se non direi che ancora il primo partito un punticino meno delle ultime elezioni del 4 marzo la lega è impressionante perché sale al 31 per cento quindi la lega ha raddoppiato i suoi voti rispetto a soltanto l'inizio marzo del 2018 insomma la cura salvini dal punto di vista della propaganda ma non solo dell'efficacia delle sue evidentemente azioni mi piace agli italiani crolla di mezzata forza italia 7,7 per cento beh se forza italia non sta bene non se la passa meglio il partito della meloni che relativamente sta meglio perché al 3 per cento quindi perde meno di quanto perda forza italia ma vi ricordo che sotto al 4 per cento con la statuale legge elettorale non si ha rappresentanza in parlamento quindi sta malissimo devo dire tra tutti e due non so chi stia peggio non so chi di due si possa leccare le ferite di più il pd perde circa due punti percentuali perché sta al 17 per cento il dato fondamentale che il centrodestra unito avrebbe dice il giornale del di milano avrebbe il 41 per cento rispetto al 31 per cento del movimento 5 stelle secondo l'attuale legge elettorale un distacco del 10 per cento non è sufficiente a dare la maggioranza assoluta in parlamento ultime due tre notizie perché siamo oggi poca poca ciccia come spesso avviene lunedì intervista salvini oggi sul correde della sera che dice che la rivoluzione fiscale si farà con la manovra quindi pace fiscale riduzione delle tasse e lui stesso cita il reddito di cittadinanza quindi il vice ministro vice premier leghista parla del reddito di cittadinanza non gli piace la fusione tra anas ferrovia dello stato quindi molto probabile che verrà cambiato il vertice ferrovia dello stato si parla di bonomi come suo rappresentante oggi debortoli su un fondo del correde della sera spiega che le lottizzazioni sono di tutti quanti i governi punto fondamentale che il lottizzato si occupi bene dell'azienda più che del partito che lo ha nominato vedremo cosa farà il nuovo amministratore delegato della cassa depositi prestiti che tutti convergono essere uomo di di maio anche se ha una grande esperienza di mercato e diceva ancora salvini dell'intervista riduzione fiscale pace fiscale reddito di cittadinanza nella prossima manovra ma bruxelles deve cambiare le regole di politica attenzione in val di susa anche questo è un elemento di polemica perché effettivamente c'è un'intervista oggi di toninelli interessante sul su fatta da senaldi sul libero il quale toninelli ministro delle infrastrutture riguardo alle infrastrutture soprattutto la tav dice se i benefici sono se i costi sono superiori e benefici non si facciano però bisogna stare attenti perché se dobbiamo pagare penali enormi e comunque è difficile arretrare la macchina mi sembra oggi dal dall'orientamento dell'intervista toninelli orientato su malgrato a continuare con le grandi opere questo però ha creato polemiche in val di susa perché ieri ci sono stati scontri e soltanto salvini con un tweet ha dato solidarietà alle forze dell'ordine che sono come sempre bersagliate dalle attenzioni poco gentili da questi no tab beh fantastico uno studio di harvard l'ho trovato mi sembra sulla corriere o sulla stampa secondo la università americana e gli open space dove tutti noi siamo stati condannati a lavorare negli ultimi dieci anni non solo non servono a nulla ma distraggono e rendono meno comunicative le persone che si mandano messaggi via mail o whatsapp perché non riescono a comunicare nonostante l'idea degli open space in ufficio serva proprio alla maggiore comunicazione le minchiate che si inventano i burocrati e gli ingegneri sociali che poi quando si parla di cose concrete non si realizzano molto felice della vittoria ne parlano alcuni giornali mi sembra anche repubblica ce l'avevo in prima pagina c'era certamente il giornale c'è una foto una bella foto forse sulla stampa di francesco molinari il trentenne italiano che per la prima volta nella storia del golf mondiale vede un italiano vincere un open championship lo vince nel in uno dei circuiti storici del golf mondiale in scozia il golf è uno degli sport più ricchi del mondo in cui l'italia devo dire che non è ma non ha mai brillato e molinari vince la prima volta è una cosa che mi fa molto piacere ha chiuso l'ultimo giro cioè sostanzialmente l'ultima partita a meno 8 risultato eccezionale e comunque il suo il suo mental coach perché ormai per vincere a golf ci vuole un mental coach uno che ti guida non solo nello swing ma ti guidi anche nella testa che cosa gli ha detto ed è stata la chiave di volta secondo molinari per vincere il il tuo nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso il motivo per il quale lui non si è sentito inferiore a giganti tipo rory tipo tiger woods e ha vinto per la prima volta un trofeo che mai era arrivato agli italiani poco altro sui giornali a mio avviso e come spesso avviene il lunedì io vi do appuntamento come sempre al sito nicolaporro.it per tutte le informazioni sulla giornata e sulla politica e se vi piace questa zuppa condividetela ciao ciao